Parla in italiano con me. Io blu, tu verde. Anche tu stai aspettando il treno per Roma? Cosa devi fare a Roma? A che punto sei con gli esami? A Roma vivi in una casa tua o in affitto? Quanto paghi d'affitto? Scusa, non dico i fatti miei alla prima persona che incontro.